Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio Sulla FIPILI per lavori di messa in sicurezza sul viadotto del Turbone due chilometri di coda in entrambe le direzioni tra Ginestra e Montelupo e per lavori ci sono due chilometri di coda anche in direzione mare tra Empoli Ovest e San Miniato Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma rallentamenti tra Aglio e Calentano e tra Firenze Sud e Incisa Reggello In A12 per traffico intenso code in uscita a Versilia in entrambe le direzioni Sul raccordo Siena-Firenze è chiuso lo svincolo di Tavarnelle in direzione Firenze fino al termine dei lavori Poverse in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio Buon viaggio Buon viaggio